Un'altra grande diretta, un'altra importantissima esclusiva di Noi TV. Domenica a Luca arriva la star del rock americano Patti Smith con il reading che chiuderà il primo ciclo delle conversazioni in San Francesco organizzate dal Comitato Nuovi Eventi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Luca. E proprio grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio l'evento diventa fruibile per tutti perché sarà trasmesso in diretta sulla nostra emittente sul canale 10 del Digitale Terrestre. Per chi vorrà assistere di persona i biglietti gratuiti saranno disponibili direttamente domenica dalle ore 11 presso la Cappella Guinigi. Dunque dopo le dirette del concerto grosso dei New Trolls e l'Alezio Magistralis di Vittorio Sgarbi Noi TV mette a segno un altro grande colpo portando Patti Smith nelle vostre case.